In Veneto c'è un problema che si sta ampliando sempre di più e riguarda la mancanza di personale all'interno delle case di riposo. Il Presidente della Regione ha espresso la sua preoccupazione e ha annunciato un accordo che permette agli infermieri ospedalieri di poter prestare servizio in queste strutture fuori dall'orario di lavoro e prevede un compenso di 38 euro l'ora. Sentiamo. Faccio appello col cuore in mano a tutti coloro che mi stanno ascoltando, che sono il nostro personale infermieristico della Regione, che conoscono il personale infermieristico della Regione, che frequentano il personale infermieri della Regione, che vivono con infermieri della Regione, di dire guardate c'è questa possibilità, fate in modo di andare a fare un'ora. È remunerata ma è volontariato perché le case di riposo sono in estrema sofferenza. Mentre si parla di Natale faremo il Veglione, Natale faremo i regali, in caso di riposo abbiamo anziani isolati che non vedono più i parenti da mesi. E non è una scelta che è stata fatta per farli soffrire di più. Il problema dell'infezione è un problema reale. Ovviamente se avessimo più personale sul mercato questi sarebbero problemi che si affronterebbero in un'altra maniera. Quindi c'è questa nuova nota che verrà inviata da tutti i direttori generali già in queste ore ed è un appello che si fa a tutto il personale infermieristico che si voglia mettere a disposizione che magari diceva io ho il sabato mattina libero, potrei andare a farmi 3-4 ore in una casa di riposo piuttosto che la sera finisco alle 6 prima di andare a casa e mi faccio un paio d'ore di giro su una casa di riposo. È sufficiente che prendano contatti con le case di riposo e poi la soluzione la si trova.